Il martedì e il venerdì sono i giorni destinati al padre, a cui poi andranno aggiunti i weekend alternati. Eh, mamma! Vai via a borsa che andiamo a casa. Eh, papà, ma come che stiamo insieme così poco io e te? Mamma, come via? Io non so dove stai a via i soldi, ma tu fai un'altra cazzata e Claudia navi di più. Lo sai non si è affatto che scappa a dei guardi. E chi ti ha detto che devi scappare? E che dove? Dei guardi. Io che pensavo che tassi abbassi male, pensa. Non mi dicono per cazzo. Stratto! Non mi dicono per cazzo. No mi dicono per cazzo. Grazie a tutti.